Caterina Balivo non ha fatto paura dell'età che avanza, accogliendo le trasformazioni del proprio corpo e le sue nuove forme. Oggi sono tre taglie in più, ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura. Voglio essere una bella quarantenne, voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta non voglio dimostrarne quaranta, ha raccontato la conduttrice a molto donna, inserto settimanale del messaggero. Il suo è un invito ad accettarsi esattamente come si è a qualsiasi età, senza alcun pregiudizio. Mi piace prendermi cura di me, ha spiegato. Noi donne dobbiamo amarci, lo dico spesso anche in tv. A volte le donne più radicali confondono la vanità con l'amore per se stesse. Non è che se ti fai una piega sei vanitosa, ti stai amando. Inoltre la Balivo ha annunciato che sarebbe tornata alla guida di uno show. Si tratta del programma Chi vuole sposare mia mamma che andrà in onda in prima serata su tv8. Nessun matrimonio di mezzo, ma ha un formato inedito per l'Italia pronto a far emozionare gli spettatori. Grazie. Grazie.